Una recente normativa in materia di armi ha introdotto una novità in tema di controlli e di sicurezza. In particolare è stata prevista un'importante scadenza per i detentori di armi, anche ereditate, che riguarda solo nella provincia di Pesaro Urbino alcune migliaia di persone. Infatti tutti i detentori, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto il rilascio o il rinnovo di un titolo di polizia in data successiva, il 5 novembre 2007, sono tenuti a portare entro il 5 maggio 2015 un certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da un medico militare dal quale risulti che non sia effetti da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Coloro che vorranno richiedere la certificazione rilasciata dall'Asur o da un altro medico abilitato potranno recarsi nelle sedi dei distretti sanitari di Fano, Pesaro e Urbino, muniti di un documento di identità valido, un certificato anamnestico del medico curante e una marca da bollo da 16 euro. Qualora entro il 5 maggio il detentore di armi non provveda quanto imposto dalla legge verrà invitato dalla questura ad effettuare la certificazione entro 30 giorni ma se non verrà fatto verrà segnalato alla prefettura. Il prefetto emanerà poi un provvedimento di divieto di detenzione arma a seguito del quale entro 150 giorni il detentore dovrà disfarsi dell'arma. In che modo? Ci sono varie possibilità. O l'arma può essere venduta a un'armeria o a un altro utente che ne abbia titolo per possederla o altrimenti può essere chiesto alle singoli uffici di polizia quindi parlo anche delle singole stazioni carabinieri di rottamare l'arma senza costi. Se l'arma ha un particolare valore affettivo invece dovrà essere modificata da un armaiolo in modo tale che non possa più sparare ma allo stesso tempo potrà essere utilizzata come soprammobile. Bisognerà comunque fare una richiesta alla questura e attendere nulla ossa della sovrintendenza. Si ricorda inoltre che gli uffici competenti a ricevere la certificazione sono la questura per il territorio del comune di Pesaro i commissariati di polizia di Fanno e Urbino per i rispettivi comuni e i comandanti di stazione dell'arma dei carabinieri per i restanti territori di competenza. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi allo sportello dedicato della questura di Pesaro e Urbino aperto nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì.